Neve, freddo e rischio gelo nel Vallo di Diano. Ovvio, naturalmente, considerato la stagione invernale, ma la protezione civile raccomanda prudenza e lancia l'allerta meteo per la giornata di oggi e per quella di domani, quindi occorre darne notizia. Aria fredda proveniente dalla Scandinavia sta quindi scendendo verso i Balcani e determinerà una intensificazione dei venti. Dalla serata di ieri sono quindi arrivate le nevicate su rilievi del centro-sud e un deciso calo termico. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'Intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteo avverse. A Montesano sulla Marcellana, da questa mattina, in particolar modo nelle zone più alte, sta nevicando e c'è il pericolo ghiaccio. Sono all'opera per la pulizia delle strade comunali, attualmente due mezzi ed è in preparazione un terzo. Lungo le strade provinciali sta regolarmente lavorando lo spazzaneve e spargisale autorizzato dalla provincia. Il sindaco Giuseppe Rinaldi invita di fare molta attenzione alla guida e di mettersi in auto solo se effettivamente necessario, di procedere con cautela a piedi per evitare cadute, in particolar modo le persone anziane. Provvederemo allo spargimento di sale, aggiunge il sindaco, per attenuare tutto ciò per ogni richiesta e istanza problematica chiamate al numero dei vigili che è 0975 86 52 37 o 0975 86 52 38.